Al Salone Internazionale del Libro di Torino abbiamo parlato del valore dell'acqua, un volume, un saggio che non è stato soltanto un momento di riflessione, ma un momento di riflessione e di rilancio su quello che sono le tematiche legate all'acqua. L'acqua che non è un prodotto, ma è un elemento in natura da salvaguardare. Noi diciamo di vivere sul pianeta Terra, in realtà viviamo in un pianeta dove il 70% della sua superficie è ricoperto dall'acqua. Hydroid, con il suo impegno nella sua qualità di scuola di alta formazione per l'acqua, si occupa proprio di insegnare, di invitare le persone, i cittadini, ad avere una maggiore attenzione sull'uso della risorsa idrica, creando un'azione di sistema tra la pubblica amministrazione, le infrastrutture e tra gli esperti che si occupano di acqua. Hydroid, come scuola di alta formazione per l'acqua, si propone di continuare in questa sua missione, nei paesi emergenti, per tutto ciò che riguarda la cooperazione internazionale sull'uso consapevole della risorsa idrica.